Un doppio appuntamento con lo spettacolo, con il teatro, che ha visto sul palcoscenico la compagnia Rea d'Arto e soprattutto in platea un pubblico decisamente variegato. La due giorni che si è svolta nell'area del Pollino si è sviluppata attraverso due serate, la prima da di scena a Castrovillari e la seconda a Saracena. Al teatro Sibaris della città del Pollino infatti va tutto quasi bene, commedia di Andrea Bizzarri che si è sviluppata fra equivoci, colpi di scena e risate. Diciamo che è stata complessa un po' la gestazione perché è uno spettacolo un po' difficile, lavora su più piani per cui noi di volta in volta alimiamo sempre qualcosa. Quindi le battute che ci siamo imparati a ottobre non erano quelle che diciamo. Abbiamo debuttato a Roma, abbiamo fatto un po' di giri e nel frattempo ogni tanto Andrea ci diceva oggi questa la togliamo, questa la aggiungiamo, questa la facciamo così. Ma questa erano tipo mezza pagina, questa mezza pagina la togliamo, questa mezza pagina la mettiamo. Ma perché questo? Per cercare di migliorare sempre di più, per renderlo ancora sempre più fruibile per il pubblico. Sempre la compagnia Rea d'Arto poi ha modificato trame pubblico, una seconda serata dedicata ai bimbi e quella andata in scena a Saracena, sul palcoscenico, un vero e proprio classico, ovvero il Piccolo Principe. Fa sognare direi, fa sognare tutti. Il Piccolo Principe è veramente un grande sogno, ha magia per tutti i grandi, i piccoli. Ce lo ricordiamo in un modo, poi lo viviamo da adulti in modo completamente diverso.